L'Aquila doveva rialzare la testa, invece dopo il match interno col Real Monterotondo, torna a casa con le ossa rotte. La sconfitta con l'ultima della classe è clamorosa, soprattutto per una differenza di organico elevata e confermata dalle parole degli avversari, che con cuore e grinta hanno sicuramente colto la vittoria più eclatante della terza giornata del Girona F. Epifani sceglie ancora il 4-3-3 come modulo più affidabile, con Banegas che ritrova la maglia da titolare dopo il pit stop di domenica scorsa. In basso a destra ancora fiducia Lorenzoni, Real Monterotondo più Guardingo per avere maggiore controllo nella zona nevragica del campo e con una linea difensiva abbottonata e compatta. Il direttore di gara è Capoccia di Perugia. Il primo squillo è Aquilano, con Galesio contratto in area, il 9 chiede il penalty, ma dalle immagini sembra tutto regolare. La gara non decolla e allora ci prova Angiulli dopo Corner a sorprendere tutti con una bella volée. La difesa stringe le maglie e sventa. Poco prima della mezz'ora Polverini deve rinunciare all'esperto Napoleoni, colpito da guai muscolari. Al 34esimo il Real si affaccia dalle parti di Raffaelli e mette paura alla difesa di casa. Il calcio di punizione attraversa tutto lo specchio, ma nessuno degli ospiti trova la zampata vincente. Zampata che un minuto più tardi trova l'ottimo Meledandri, che in area trova la spaccata vincente su cross di Malvestuto. Aquila è stordita e il Real Monterotondo può subito approfittarne con Riosa, che vede Raffaelli fuori posizione, ma il tiro da lunga distanza supera la traversa. Inaspettatamente, all'interno dell'Extra Time, l'Aquila pareggia. Angiulli disegna una parabola velenosa che va a spegnersi in fondo al sacco, con Simionato impreparato al cospetto di una traiettoria leggibile seppur veloce. L'errore del numero uno ospite regala una verve diversa ai rosso-blu, che rientrano in campo indemoniati. Banegas da calcio franco impegna l'estremo difensore ospite dopo soli due minuti e poco più tardi trova il bersaglio grosso da posizione simile. Il mancino passa tra le maglie e dalla barriera e il gran sasso di taglia può esultare. Nemmeno 120 secondi è lo stesso argentino da sul mancino il pallone del 3-1, ma Simionato si supera dopo la stoccata del 10-rosso-blu, imbeccato da un bacio terracino in versione contropiedista. Da qui in poi inizia il suo uccidio calcistico dei palloni di casa. Al sedicesimo Raffaelli smanaccia male una ponezione di Meledandri, proveniente dalla sua sinistra. All'interno dell'area in tanti fanno le belle statuine e manca, ne approfitta per pareggiare la contesa. Al diciottesimo Raffaelli si merita il definitivo 4 in pagella. Il portiere rosso-blu se la prende comoda nell'andare a gestire il pallone nella sua area di competenza. Scaffidi si accorge dell'impasse e gli soffia il pallone senza colpo o ferire. Contro sorpasso completato è l'Aquila che perde la bussola in modo definitivo. Il colpo di testa di Galesio due minuti dopo la mezz'ora viene respinto da un Simionato attento e reattivo, mentre il legno della porta del Real Monterotondo fa impazzire di rabbia Sarrizzu per un pari mancato, che forse avrebbe premiato l'Aquila più del dovuto.